Nel pomeriggio tornerà a riunirsi il Consiglio Comunale del Capoluogo con due punti all'ordine del giorno. A proporre il primo è stato il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Luigi Urciuoli, che chiede l'istituzione di una commissione speciale allo scopo di analizzare le opere incompiute della città di Avellino, Metropolitana Leggera, Sottopasso, Piazza Castello. L'obiettivo è ripercorrere come si sono sviluppate le procedure nel corso dei decenni. La legge Madia fissa invece il secondo ordine del giorno con la razionalizzazione delle società partecipate dall'ente. Alto Calore, Cirpu, Avellino, Città Servizi, Fondazione Universitaria Salerno saranno nuovamente motivo di scontro tra maggioranza ed opposizioni. La novità potrebbe essere rappresentata dal rientro del Comune di Avellino nel consorzio dell'area di sviluppo industriale. In aula potrebbero trovare spazio anche dibattiti non programmati sullo stato di salute delle casse dell'ente alla luce del mancato trasferimento da parte del Ministero dei Fondi per il predisesto. Così come l'emergenza furti, che lambisce anche le contrade del capoluogo, potrebbe essere rilanciata da qualche consigliere. La seduta odierna prevede anche una seconda convocazione già fissata per il 30 dicembre. Il Consiglio Comunale di Avellino verrà trasmesso sul canale 90 del Digitale Terrestre e ancora attraverso internet su primatv.it e sulla pagina Facebook ufficiale di Telenostra.